Bella guys, voglio ricordarvi che se volete supportarmi, negozio oggetti, supporta un creatore, con il codice FORTU, accettate, da ora ogni acquisto che farete, mi darà un piccolo supporto, grazie a tutti Mi sto pompa, dai, 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 ottimo set iniziale, ottimo set iniziale, ragazzi ci vuole un headshot, un headshot diretto Ok, i headshot fanno schifo, e a lui invece sono buoni, ho alzato troppo il volume ragazzi, il volume è troppo alto, cavolo, dai, mori, mori Un colpo, ah, ah, dai, ok, bello, finalmente, 100, non ci posso credere, top Ok madò che panico sorcio a 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 ragazzi non ho più la chat attiva sul telefono un secondo bene un'ora un secondo proprio non sto proprio sentendo niente dammi un secondo non è il caso un secondo as aspe che miseria ragazzi ma che culo però è ok vorrei far notare tutte le situazioni in cui sono quindi scusate se non sono al 100% delle mie capacità intellettive a 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 se il nostro contenuto possiamo anche morire per quanto mi riguarda ottimista sì sì sicuro ma voi avete capito qualcosa che no porto ti piace godam si ragazzi veramente un sacco sincero cioè mi sono innamorato credo di essermi veramente innamorato di godam veramente stupendo come 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 idea veramente divertentissima semplice perché alla fine è semplicemente una zona dovevo utilizzare i i deltaplani ma veramente per quanto mi riguarda abuso raga cavolo mi hanno colpito beh potremmo cercare di eliminare quel tipo cercando di fuggire dal tizio che ci ha appena provato a interdire con i suoi proiettili oh certo è un'ottima idea se non fosse che ora un cecchino un tizio con un fucile a pompa migliore del mio e uno che costruisce con una velocità da far paura cavolo è il momento di sparare oh sì oh sì mori così questa cosa è inquietante ah no ma io la porta l'ho chiusa ah quindi posso urlare raga non mi sente tutto il vicinato top raga top però c'era un po' rotto che ti va sì però io non so se tu eri il cecchino oppure no quindi sinceramente non è che mi sei molto simpatico guarda io mi faccio a piedi se non ti offendi ah ti do un po' di fastidio giusto ti faccio una punturina ma no sono sono in maniera saggia sono in maniera saggia dico così in generale ma do ok ok bro c'è arremesso si ce lo so ragazzi ho provato in duo e ho fatto solo e versus duo ma è veramente mi so solo stizzato quindi non fa nulla La faremo poi Nel caso avrò un compagno Prigionamento sono sorpreso Ah 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 Ragazzi sette proiettili No quanti erano sei? Non lo so Comunque si è fatto veramente massacrare Sto tipo No però te sta ander Tutto bene Te sta proprio ander Un altro? Madre Venga madonna pensavo fossi un nemico enorme Ho detto what the fuck Dai Ho Ho Sì. Stordito sì ma non fino a questo punto. Che cavolo sta succedendo a sto tipo? Ma che ca... Ragazzi è buggato. Non si vede. Ma vi rendete con... Vabbè ciao. Mi sono fottuto la 20 bombs guys. Mi sono fottuto la 20 bombs. No. Questa non ci voleva ragazzi. No cavolo. Questa era una bellissima partita se la facevo di 20 bombs. Veramente. Cavolo cavolo no. No la 20 bombs non me la dovevate fottere però. Non fa merda. Dai. Dai. Fammi entra la trappola. Vabbè devo assolutamente andarmene. Ok. Che se entravo e questo piazzava la trappola. Era una situazione veramente bellina. Devo dire la verità. Questa è una situazione. 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 Ok c'è lo scar A livello di armi sta sicuramente un passo sopra di me Questo è il pokemon sicuro Forse non di forza Cioè forse non di bravura Però a livello di armi sicuro tiene il vantaggio galattico Momori in safe Wow io pariamo Sta ricaricando il barret dai Let's fucking go baby ragazzi 19 kill 19 kill veramente una partita della madonna Peccato Ragazzi peccato un sacco per la 20 bombs mancata Poi vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti E attivare la fottuta campanellina Che questa ragazzi Era una 20 bombs Dai era una 20 bombs GG guys GG Bella così じcrittata che dovevi üzere il ferro mi No